Caroline Wozniacki ha annunciato come si legge su internet di oggi 6-12-2019 il prossimo addio al tennis il suo prossimo addio una disciplina che in quasi 15 anni dai 15 ai 29 era vista davvero arrivare molto lontano fino ad arrivare al trono mondiale del ranking femminile e vincere decine di tornei ho raggiunto tutto quello che avrei potuto sognare sul campo avrebbe detto la donna ho sempre detto a me stessa e quando sarebbe arrivato il momento ho detto basta annuncio così che mi ritirerò dal tennis professionistico dopo l'Australian Open a gennaio dunque nel 2020 arriverà da come si legge ripeto su internet l'addio del tennis da parte di questa bella brava e simpatica donna vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la gentile visione di questo video di oggi iscrivetevi se vi va ovviamente, commentate, fornitemi il vostro giudizio e complimenti alla bella Caroline Wozniacki che oltre ad essere ben intelligente è anche molto brava non è diciamo così da parte mia un addio ma spero che il suo ritiro non crei problemi in chi le vuole bene e chi le apprezzo per me stesso un saluto ricaro al prossimo video del narratore italiano